Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Cesare Martignan. Il traffico scorre al momento regolare sull'intera rete stradale e autostradale toscana. In A1, per lavori di ripristino della pavimentazione, lunedì 20 marzo, in orario 22.6, verrà chiuso lo svincolo di Firenze Scandici in uscita per chi proviene da Roma. Sul raccordo autostradale Siena-Firenze, restringimento di carreggiata in corrispondenza dei viadotti Filinelle e Molinuzzo tra Pogibonsi e Tavarnelle. Sulla strada provinciale 11, per Fucecchio, senso unico alternato per restringimento di carreggiata tra i chilometri 4 e 500 e 8 e 500 nel territorio comunale di Cerreto Guidi, fino al 6 aprile. Dal lunedì 20 marzo al via i lavori di risanamento e asfaltatura di Viale Truria a Firenze. L'intervento interesserà prima le corsie in direzione Fipilì e il collegamento Viale Piombino-Via Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!